delle quali preoccupante la più preoccupante da ogni punto di vista arriva da Milano arrestato un assessore l'hai passata la fama? viviamo in un posto sporco comandato da gente sporca un giorno avverrà qualcuno che sistemerà tutto una promessa fino a quel giorno dovremo sopportare tutta questa spazzatura vabbè dai, non guarda che si fredda ti fa stare veramente felice felice? da quello ti vuoi fare una risata? sei troppo serio ridi ma come cazzo fai ad essere così tranquillo così felice sapendo che siamo destinati alla rovina? il nostro paese è destinato alla rovina sapete perché? perché le persone che lo governano sono persone vuote non provano amore verso i paesi che guidano pensano a come diventare più ricchi ad avere le migliori case le migliori escort la migliore droga per loro conta soltanto il potere il resto non vale un cazzo io voglio cambiare tutto partire da zero non mi interessano i soldi non mi interessano le donne non mi interessa la villa grande abbiamo il diritto di vivere in un posto meraviglioso tutti noi lo meritiamo il nostro paese lo merita io ci riuscirò è una promessa è una promessa è una promessa è un'altra 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 promessa